Salve a tutti ragazzi e bentornati in my show show, siamo tornati con FIFA... Aia... Siamo tornati con FIFA 22! Eeeh... Sì, è agosto. Ma questa è la sfida tra questo uomo e questo gioco... D'agosto. E infatti ragazzi, questo è proprio l'emotiv di questo video, ovvero... Com'è il food draft? Pure challenge, ci aggiungo. D'agosto ho pensato questo. Nei mesi abbiamo fatto un sacco di sfide, tantissime suggerite da voi, figata, bellissimo. Sicuramente torneranno in FIFA 23. Però mi sono chiesto, ma su FIFA Ultimate Team, ma che sta succedendo? E infatti ragazzi, sono... Boh, mesi probabilmente che non lo apro. Dei toz, Ultimate Tots, io ho finito. Però ragazzi, in realtà, vedendo, stanno uscendo un sacco di giocatori. Adesso ancora ho visto Ronaldo 99 su 99, SBC... Allora mi sono chiesto, e se facessimo un food draft ad agosto? Dovrebbero uscire i peggio giocatori, giusto? Quindi ragazzi ve lo dico, cioè, buona la prima, come va, va. Anche perché per fare sto video, ragazzi, ho quittato un draft con Pelé 99 e Ronaldo il fenomeno Prime Moments. E ciao ragazzi, lasciate un bel mi piace e se vi va suggeritemi altri food draft da fare, se avete delle idee. Abbiamo fatto più o meno tutto. Si va! Usiamo ovviamente il gettone draft perché siamo poveri. Allora scelgo io, in realtà. 4-4-2 contenimento. Mi piace, solo se mi dai adesso un super campione. Vabbè ragazzi, che vedevo di, cioè, nel senso... Come saranno i draft di agosto? Porco 2, mezzo a monte. Non te esce neanche a settembre. E se te esce a settembre è un pippone. Chi è? Il hamburger. Burgess. Ma ne c'avevi le versioni speciali. Rigen, ragazzi. Vabbè, vattene a destra Rigen. Torto Rigen. Ok. Qua è Ronaldo il fenomeno. Va bene. Ronaldo Toti o un Bappé Toti? Eh ragazzi, allora, considerando... Allora, io mi sarei preso Cristiano, eh. Metti Mbappé. Metti Mbappé. Ragazzi, un Bappé è troppo bello. Oggettivamente è bello. Allora, aspettate. No, 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 aspettate. Ah, lui se ne può andare. Questo lo pio corbinocolo. Undav. Tra l'altro sto Undav, ragazzi. Guarda che bestia rara. Fa pure un sacco rima con Rigen. Quanti ho c'ha di piede debole? Cinque di piede debole. Questo è un animale raro. Molto meglio delle Vandinoski, ragazzi. Oh, 95, 95. 98, 94. Cioè, ragazzi, questo è meglio delle Vandoski. Undav. Va bene, ragazzi. Abbiamo Gundam. Gundam Queen. Sì, guarda là. Ragazzi, lo so. Sono pazzo, sì. Pazzo per... Porco, due. Pazzo perché faccio sta roba a costo. Invece di farmi i cavoli miei al mare. Come tutta la popolazione umana, proprio. E che me piglio, ragazzi? Che me dobbia qua? Simone. Ho capito se Simone è qua. Vabbè, ragazzi. CDC, Icon. Sbrozovic. Però non ci fanno niente. Brozovic è bel giocatore. Ci avremo Adams. Che farebbe bel rima. Leimer o Torreira. Ragazzi, Brozovic mi piacerebbe. Però non fa rima con nessuno. Alla sto punto per prendere Leimer. Sì, sì. Poi c'ha pure alto in difesa. Va bene. Mi sta bene. Dammelo forte, per favore. Vabbè, ti dirò, ragazzi. Petit mi piace assai. Chi è questo? L'Ertora. Vabbè, ragazzi. Metto Petit. Che mette un po' d'accordo tutti. Poi Petit è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Uh, Eder Militao. Che fai, te ne privi. Pure Secundé. Kulipali. Tutti forti, ragazzi. La Crua. Eh, però qua c'è, ragazzi. Eder Militao. È troppo forte. Ah, la Crua. Andavate qua. Vabbè. La Crua, ridammelo. Non me l'hai ridato. Scaldabagnets. Il signor Rudiger. Non mi leva le castagne dal fuoco perché è tedesco, ma... Tapsobà. Però forse, ragazzi, prendo Hernandez, che è pure francese. Prendo il fratello scarso degli Hernandez. Non è vero. L'hanno pagato tantissimo. Dammeli forti! Spinazzola! Mi tocca prendere bere chicche qua. E di qua. Un campione. Un fenomeno. Vabbè, Mugiele. Ti debo dire. Oh, raga. L'intesa c'è. Però per essere in draft di agosto. Se ci vado a mettere pure il signor Sommer. Ah, metto Black, ragazzi, sti cavoli. Vabbè, dai, ragazzi. 91-92. C'abbiamo quel Simons lì che fa... Simon qua che fa cagare. Quindi proviamo subito a trovargli una sistemazione. Centrocampo. Oh, signor. Abbedibile. Così. Messo là. Abbedì. 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 Prendo Abbedì, ragazzi. 94. Vai, ancora. Buono pure questo. Mmm, Tolisso, che è il fratello di Hernandez. Allora, non borrillantissimo, ti devo dire. Fammi vedere. Vabbè, lo posso piare. Rashford, non mi serve. Marco Verratti, non mi serve. Prendo Dolisso, ragazzi. Dolisso e lo schiaffo qua. Babam. 95. Ora, Undav. Vediamo se esce Gundam Wing. Oh, Sané. Allora, aspettate, ragazzi, perché noi dobbiamo togliere pure l'AS lì. Guarda Dempsey quanto l'hanno fatto forte. Ma siamo pazzi. Ed è pure della Premier League. Vabbè, come se mancassero gli esterni sinistri. Allora, ragazzi, se metto Sané, 96. Dai, Sané 96. Mazzate, ragazzi, proprio le valutazioni sparate a cacchio di cane. Va bene così. Aggiustiamo ancora la difesa a un terzino sinistro, FIFA. Proprio ciò che mi serviva. E me prendo lui, per forza, ragazzi. Lo schiaffo lì. 191 adesso. Però, questo è un pippone, sicuro. Sembra un gufo. Sembra un gufo. Allora, aspettate, ragazzi, perché qua la situazione cambia. Perché potrei prendere Vancazzo, ma non ci faccio niente. Mentre potrei prendere Davis. Cioè, se fosse tipo un 190 e passa, si potrebbe trasformare. Davis fa bella intesa. Vancazzo lo lascio, ma prendo Davis. Ma sai che il fatto che siano usciti i portieri scarsetti ne manco male? Vieni Miller, fai l'amore con il sapore. Dai che questo è buono. Dai che questo è... Mamma mia, ragazzi. Giovane Cabral. Vai, riserve, ragazzi. Possiamo ancora buttare dentro qualche campione? Che è questo Lukaku, man of the match? Allora, aspettate, ragazzi. Quali potrebbero essere le sostituzioni? Ma sai che io un Lukaku, man of the match, te lo butto dentro? Vai così. Ancora, ancora, ancora. Mamma mia. Chi è questo? Guarda quest'altro, ragazzi. Mukhtar. Magari, è la giornata dei pazzi furiosi... Baggatoni. Per forza, lo metto dentro. Vabbè. Mammo salato. Patrick Schick. Oh, Pierre Meric. Te devo dire, ragazzi. Te devo dire. Allora, guarda, guarda, guarda come te l'ha giusta sta formazione. Guarda come te l'ha giusta il signor Mike. Putane, guarda. Pure Ido è buono, ragazzi. Ero Ido a cagà. Allora, inizia la partita. Esce Simone. Sane quanti piedi c'ha, te vede. Oh, mazza. No, proprio voglio giocare con Undav, ragazzi. Questo quanto c'ha? Porco, tu guarda pure questo, ragazzi. 4-5. Eh no, ragazzi, eh no. Sane scale e entra Undav. Ho deciso. Potrebbe entra pure Mukhtar. Padrepioli, che non serva a niente. Padrepioli a guidare sta formazione. Si va, si va, si va, si va, si va. Uh, Ronaldo. Ah, vediamo se mi ricordo ancora come si fa, eh. Mi puoi pure il caffè, guarda che te dico. Ciruzzo o Struz. Ah no, ragazzi, noi dobbiamo fare subito una sostituzione, eh. Noi dobbiamo subito fare entrare il nostro Capuoz. Gundam Wings. Guarda Regan, ragazzi. Guarda Regan che capitano in campo. Eh? Sane! Ok. Allora, Ciruzzo o Struz. Noi facciamo entrare Sane. Facciamo usciare Simone. E mettiamo dentro un DAV. Pure se Mukhtar è pronto a entrare, ragazzi. Sto Regan da valutare. Uh, in testa. No, eh, vabbè. Vai così, vai così a ripartire. Sì, sì, sì. Io gioco a Paddle. Ciruzzo o Criminal. Eh, viene fermato. Bravo, bravo. Questi passaggi mi piacciono. Che è questo Kantè? Cosa? Come? Ma Kantè? Ma come Kantè? Ma cosa è diventato FIFA? A parte che se questo c'ha Zidane Kantè è finita. Chi è quel 98 Kantè? Guarda là. Mamma mia, ragazzi. Engolo, engolo Kantè. Vabbè, ma noi ragazzi non ci dobbiamo far spaventare da un Kantè, eh? Noi abbiamo Gundam là davanti. Bella, guarda che passaggi. Tolisso. Tolisso, ragazzi, che tra l'altro ha fallito talmente tanto che se ne è ritornato a Lione. Ora Kantè! Ma è ovunque! Ma non si può giocare così, signori di FIFA! Ma chi è il maledetto che ha pensato? Sì, sì. Mettiamo Kantè 98. Quello è fallo l'albero. Ma si continua. Riken. Che cazzo fai Riken? Tutto della... Vabbè. Riprendiamo noi. Eeeh. Oh! Oh! Signori! Il signor Mike Chosha! Si ricorda ancora come si fa? E come si fa? Qua subito... No, Gundam si è fatto male, ragazzi. No, Gundam, dai. Non te puoi essere fatto male. Su, non hai fatto niente. No! Passa attraverso due! No! Perché si è spostato il mio portiere? Non l'ho spostato, io giuro! No, vabbè. Stiamo... Intanto famo usci Gundam. No, qua stiamo proprio veramente... Stiamo veramente... Ragazzi, allora... Mukhtar, vai te. No, stiamo veramente... Io ho fatto il tasto per far uscire il portiere sul giocatore. Il calcio d'agosto. Anche perché? Perché avrei dovuto spostarlo lì. Se ne va Gundam. Complimenti, ragazzi. Ha giocato probabilmente neanche 20 minuti. Entra, riesce. Sembro io la prima volta. Sono entrato, sono uscito. Ho finito. Varei mie che non si muovono, raga. Ah, ma sta giocando pure Sané. Non ce ne eravamo accorti. No. Mook ha cambiato un po', ragazzi, il gameplay, eh. Sì, vabbè. A Black, sei una figurina, sei. Come se non ce fossi, praticamente. Sì, guarda quest'altro scurdo, va. Vai, signore. Uh, lo lascia lì. Sali in cattedra. Vedete chi gliela Mbappe. Lo aspetta. Eh, vabbè. Quell'altro se ne va. Mukhtar se ne va. Si dimentica di fare l'attaccante. No, pure Mbappe è infortunato. Oh, ma che a me sta a menare questo qui? Ha giocato e fa male. Oh, Tolisso. Tolisso. Sopra tutti. Tolisso. Vai a prenderti quel pallone, Tolisso. Te lo sei meritato. Portatelo a casa, Tolisso. Mazzana, che cazzo. Ha sverniciato tutti. Guarda, 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 qua. Regan. Scotti Pippen. Oh! Pronto? Dove sta lui che fa la ballerina? Fammi un po' la ballerina. Ciruzzo o struzzo. Alla pià. Ancora un infortunio, ragazzi. Ma non mi interessa. Sta infortunato. Chi gliela Mbappe? Guarda, guardalo, guarda. Guardalo. Muk. Muk. Eh, si è fermato. Chi è? È tu, eh? No, ehi. Oh, una parata. Oh, Black. Grazie mille. È il quarantesimo. Ce l'abbiamo fatta. Regà, lo sto per subì, eh. Preparatevi che lo sto per subì, eh. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Ci stiamo difendendo con le unghie e con i denti per una partita che... Piuttosto così. Mukhtar, dai. Ti fa un po' sentire, eh. Ah, pure Neymar. Sì, sì. Che rigore è questo. Netto, 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 netto. Stiamo andando al baretto. Oh, 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 oh. Pure Ribery. Ma ammazza che squadrone che c'aveva lui, oh. Stupido. No! Ma questo c'ha le mani fucilate! Non è possibile! No, raga. Questo deve vincere per forza. Il mio portiere non esiste. C'ha le mani fucilate, oh, Black. Gli avevo parato chiaramente il rigore. Mi sono pure spostato. Ma che devo fare di più? Non mi era mai successo nella storia di FIFA, sta roba. Guarda qui. Guarda il suo Loris come para. Vai. Gillian, no! Un tiro, lui, un gol. Cinque tiro. Vai, 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 vai. Non la prende Mike! Regan, Regan. Regan. Senza Versace, Regan! Eh, no, Regan. Ma merito sto game, eh. Sto game me lo merito, ragazzi. Regan! No! No, Regan! Mi hai tradito. A giro! Eh, la prende pure questa. Sergio, Regan. Eh, ci va. Cinque piede debole a Bamiyang. E quando me lo dite? Ah! No, albero! Fallo, albero! Dai! Sané! No! Sané! No, sta partita non si può vincere, ragazzi. Sta partita non si può vincere. Oh! Non la sbagliare! Non la sbagliare! Chi ha segnato? Ubameyang con la testa. Bravo, Pierre Meric. Dai, Mukhtar. Dai, qualcosa, Mukhtar! No! No! Ok. Meno male che Cheddar. Sì, vabbè, dai. Ciao. Mukhtar! Che si è inventato? Mukhtar! Oh, sì! Lo riprendono loro! Con calma, ragazzi. Con calma. Mukhtar. Ancora lui. Ancora voglia di stupire. Mukhtar! Gliela mette! Sané! E te ne vai! Ciruzzo o struzzo! Sotto la doccia! Sotto la doccia! Comunque, due pennellate di Mukhtar. Migliore in campo. Che gli vuoi dire? Solo un assist. Vabbè. Secondo game ad agosto. Mmm. Squadra di pippe immonde. L'avete viste? Vediamo chi c'ha in panchina sto ragazzo, eh? Questa è una squadra che dovrei scoppiare... No, facilmente. Perciò, ragazzi. Un dub. Non mi deludere. Ok. Lui chi c'ha? Vediamo lui chi ha. Ma non c'ha nessuno, ragazzi, in realtà, purello. Il draft più brutto del mio. Braccio, lui veramente ha buttato 15.000 crediti, eh? Berguin là davanti. Oh, 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 oh. Subito, si va. Si va, ragazzi, con Ricken. Scotti Pippen. Oh, ci si butta! Questo penso sia il tiro più brutto che ho visto in FIFA 21. 22, scusate. Non è che un po' di culo ogni tanto, no, eh? No, no. Guarda un DAV come la chiede. La vuole, la brama. Però la prende... Pempe, niente. Non vedo l'ora, ragazzi, che su FIFA 23 e sti blocchi saranno ancora peggio. Un DAV! Si nasconde dietro gli attacchi, i difensori, ovviamente. Deniz. Come si chiama Deniz? Cazzo è il nome? No, eh... Ah ma questo c'ha pure Quello scarso Noi abbiamo un dab quello forte Io li brucio sempre ragazzi Quando dico la mia li brucio sempre Eh Sì Certo C'ho a me nì Certo c'ho a me nì E' il pisellata magica proprio C'ho a me nì il fagiolo magico Ho capito ieri che faccia sta cosa Ma è infermabile Pum senza portiere proprio Ah beh ma c'ha un black pure lui è normale Ed invisca a rondo Viene fermato da mughiele pulito fra Mettiti a correre Vai per Killian Vai Killian mio No Signore Signore E fallo albero Qui aspetta Undav 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 si gira Ah Ah l'angolo bellissimo E allora No Undav Ma tu non c'hai proprio il fiuto eh Undav invece Vedi Killian Mbappé Aspetta aspetta Undav Con la ciabattata Doppia ciabattata Undam Undam Oh per la tripeletta Undam Lo vede Lo brama Brama quella palla Lì sono Gliela dà Perché vabbè È un razzista Eccolo il gol Subito Kick off Goloso Goloso 3 a 3 Questo raga Non ha fatto nulla Tutto il game Ha fatto esattamente 3 tiri Ve lo mostro Forello E vi mostrerò Che ha fatto 3 tiri Tiri 3 Però ragazzi Il calcio da costa Così Parte Uh Undav 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 No Ma che è sto bugazzo Dov'è il mio difensore centrale Del cazzo Ma incredibile ragazzi C'è Contropiede 1v1 Così Sta squadra Mi sa che c'ha Un coefficiente Schifo addosso Guarda come difendono i miei Sì sì Vai vai Quinto tiro Quinto gol E stiamo 5 a 4 per lui Incredibile Ma va va raga È inutile C'è la mia squadra non c'è Io sto con le impostazioni normali Vabbè Sì 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 Tutto a posto Tutto a posto Tutto a posto Sì sì Mukhtar Nello spazio Pempe È fermato da Ivan Ramiro Ivan Ramiro lo ferma Poi abbiamo ancora Pirlo Prime qua No raga Questo è chiaramente Questo è chiaramente Bad gameplay Questo è chiaramente Bad gameplay E segnami allora No segnami Madonna Kamadoska Mi devi fare doppia forza Mannaggia Questo è proprio Lo specchio di sto gioco Quanti gliene devo fare Per fare già Due No Non ce la farò mai ragazzi Non ce la posso fare Non posso giocare Gol Vai Prendila Prendila Eh vabbè ragazzi Non si può vincere così Dai Non si può vincere così È impossibile È impossibile così È impossibile così Dai Vincere in pallo Eh Passa Fallo Eh Rigore Guarda 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 In mezzo Passa in mezzo Così Senza Non lo so Non c'è bisogno neanche di giocare Senza giocare proprio Vabbè Vabbè Guarda 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 Mamma mia Guarda Con chi sto a perdere Ah Luca Non riesce a co No no Ragazzi 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 Sì si fammelo No C'avete visto Come lui non riusciva andare avanti Tolisso non riusciva andare avanti C'è proprio la gravità C'aveva Te sto aspettando Te sto aspettando Te sto aspettando Te sto aspettando No No Non ci credo Col drift shot No ragazzi Non ci credo Non ci posso credere Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi È finita È finita È finita No Vabbè ragazzi Basta Basta Vabbè ragazzi Ragazzi Ma l'avete vista Agli ultimi secondi Da soli Da soli Tanti al portiere Ha preso pure quella Con la palla che pesava Dieci chili E ragazzi Questo era un food draft D'agosto Ma mi sono ricordato Perché non ci gioco più Però ho fatto 12 colli in due partite Veramente ragazzi Lasciate troppi mi piace Perché se no Non ci torno Mai più C'è un po' Grazie a tutti.